benvenuti a tele ci verrà un cancro a tutti siamo qui con il signor pepe di caprio che fra due giorni andrà a boston e se ne passa per il cazzo noi invece ritorniamo qua a morire a morire ho telefonato ai pompieri e ho detto guardate che c'è un incendio importante dalle parti del casetto sud e mi hanno detto stiamo agendo il verendo trattati di sfascia carrozze secondo te che significa trattati di sfascia carrozze che stanno cucando copertoni e dei fusti contenenti morte